Albania, Macedonia e Serbia sulla strada degli azzurrini. Sono queste le tre avversarie dell'Andre 17 di Emiliano Bigica, che tra il 26 e il 31 ottobre si giocherà la qualificazione alla fase elite dell'europeo di categoria. Sarà la Romagna a fare da cornice ai match del raggruppamento azzurro. Il debutto sarà con l'Albania, mercoledì 26 ottobre, allo stadio Bruno Benelli di Ravenna. Venerdì 28 sarà la volta della Macedonia al Tullio Morganti di Forlì. Lunedì 31, infine, l'ultimo incontro del girone contro la Serbia di Nuova Ravenna. Tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta da Rai Sport 1. Si qualificano per la fase elite le prime due classificate dei 13 gironi e le 5 migliori terze sulla base del rendimento ottenuto contro le prime due classificate del proprio raggruppamento. La fase finale si disputerà in Croazia a maggio. L'evento è stato presentato giovedì 20 ottobre nella sala consigliare del comune di Ravenna che insieme ai comuni di Forlì e Russi ospiterà le sei gare in calendario. Per Emiliano Bigica è un ritorno, visto che proprio in Emilia Romagna giocò un torneo quattro nazioni quando militava nelle selezioni giovanili azzurre. Il tecnico confida nel valore della sua squadra. È un gruppo di ragazzi secondo me di buona qualità e sono convinto che sanno qual è l'importanza di questo qualific round e abbiamo tutta l'intenzione e le capacità per poterlo passare in modo brillante. I precedenti fanno ben sperare gli azzurrini che vantano due vittorie con l'Albania, due pareggi con la Macedonia e tre successi con la Serbia. Da martedì però la storia non conterà, sarà il campo l'unico giudice.